Molto spesso nei commenti che fate qui sotto i video mi scrivete di essere in difficoltà nel capire come raddrizzare le ruote dell'auto. In questo video vi spiego come riuscire a farlo semplicemente. Iniziamo! Durante alcune manovre da fare con l'auto arriva prima o poi il momento in cui bisogna raddrizzare le ruote ovvero metterle dritte. Potrebbe succedere a metà manovra come ad esempio nel parcheggio ad L che ho già spiegato come va eseguito in un video. Se non l'hai ancora visto lascia il link qui sotto in descrizione oppure per vederlo basta anche cliccare sulla scritta che compara adesso qui in alto a destra. Oppure può succedere di dover raddrizzare le ruote per concludere una manovra visto che all'esame di guida un parcheggio non verrà considerato ultimato se non avremmo posizionato il veicolo dritto e le ruote dritte. Vediamo come farlo in modo semplice. Partiamo intanto dal presupposto che per avere le ruote dritte anche il volante deve essere dritto centrato ovvero così come si vede in questa foto. Se il volante non è dritto per forza di cose neanche le ruote lo saranno. Per sterzare le ruote del tutto a sinistra o a destra non cambia niente dovremmo con la maggior parte delle auto far fare più o meno un giro e mezzo di volante che significa quindi un giro intero più un altro mezzo giro. Si vede che adesso con le ruote sterzate del tutto in questo caso a sinistra il volante è girato al contrario sotto sopra lo si capisce anche dalla scritta nissan che è rovesciata. Per mettere le ruote dritte basterà fare la stessa cosa ma all'inverso ovvero dare un giro e mezzo di volante verso destra. Con il primo mezzo giro metteremo il volante dritto e poi gli faremo fare un altro giro intero in modo da averlo nuovamente dritto. Adesso le ruote saranno sicuramente dritte. Potrebbe anche capitare però di non avere le ruote sterzate completamente in una direzione ed in questo caso quindi non dovremo fare il classico giro e mezzo per mettere le dritte basterà sicuramente di meno ma dovremmo capire noi quanto girare il volante partendo sempre dal presupposto che a fine operazione per avere le ruote dritte il volante dovrà essere dritto. La prima cosa da fare è spostarsi un po' in avanti col veicolo per capire da che parte va. In questo caso si nota subito che il veicolo avanza verso sinistra. Allora sarà semplice intuire che per raddrizzare le ruote dovremmo girare il volante dalla parte opposta ovvero verso destra fino a metterlo dritto ed avere il veicolo che procede quindi seguendo una linea retta. È molto semplice. Riassumendo se le ruote sono sterzate del tutto verso una determinata direzione per metterle dritte basterà far fare al volante un giro e mezzo dalla parte opposta fino a posizionarlo dritto. Se invece le ruote non sono sterzate del tutto dovremo avanzare un po' col veicolo per capire da che parte va e sterzare il volante dalla parte opposta fino a posizionarlo dritto verificando poi che il veicolo vada effettivamente dritto. Per imparare bene queste tecniche ci si può mettere in un parcheggio e fare qualche tentativo. Dopo poche prove si avrà capito perfettamente come raddrizzare facilmente le ruote in qualsiasi situazione. Spero con questo video di esservi stato d'aiuto nel semplificare un'operazione che spesso mette in difficoltà. Noi ci rivediamo presto con il prossimo video sempre qui sul canale guidare oggi con Andrea. Grazie a tutti.